WOOOOO Bella a tutti ragazzi sono Flammino Finalmente sono ritornato dopo il video Vergognoso Youtube Italia in un solo video Ringrazio mio Dicevo ringrazio mio cugino Mr. Flame Per darmi spazio nel suo canale Ricordatevi che non si Si spossi cazzo Ricordatevi che non si sta con il cellulare mentre si guida E mentre si guida non si sta con il cellulare Io infatti che sono devoto al codice statale Ed avrò la patente tra qualche anno Sto con una GoPro in testa Così almeno non mi distraggo Mentre guido la macchina di Sio Sansone E vabbè E vabbè però pure lei lo dica Si sposti cavolo Sto passando Allora oggi faremo un prank A Luke4316 Che sta facendo una live sul suo canale Mentre gioca a... A coso... A Minecraft E lo faremo usando il telefono di Mr. Flame Che ha il suo numero di cellulare Si levi dalle palle Vi avviso Potrebbe essere più scandaloso questo video Che se assassinassero l'assessore di Sassari con un fasso Iniziamo E' ripartita la chat Chi la legge più adesso? E' partita E chi la ferma? E chi la ferma? E chi la ferma? Aspetta Aspetta Mi hanno scritto urgente Ma perchè la gente è così pirla? Mi ha scritto Mr. Flame ragazzi Se lo conoscete no? Tramite... Eccala Tramite... Come si chiama? Whatsapp Mi ha scritto Urgente legge... Allora... Scusami è urgente Un attimo di attenzione Poi scrolli giù Scrolli giù Grazie dell'attenzione La mia prima morte in 23 episodi La mia prima morte in 23 episodi Per colpa di Mr. Flame Vaffanculo La mia prima morte Non sono mai morto in questa serie Mai Ma Vaffanculo Ma proprio col cuore No ma ragazzi Ma avevo 40 livelli Che me li tenevo tutti accuratamente Non mi hanno uccisi Maya Non mi hanno uccisi i Verza Non mi hanno uccisi... Ma... Ma no... Ma ragazzi ma seriamente Visto che sono un bambino furdetto Ho già contattato il top avvocato Perchè ho paura che il Luke e 4-3-1-6 possa pubblicare questa conversazione sfruttandola contro il mio cuginone secondo l'articolo 43,16 della costituzione della community italiana rendere pubbliche delle conversazioni private di Whatsapp senza il consenso del mio assistito Mr. Flame comporta per il manigoldo da 1 a 3 strike che comporterebbe la chiusura del canale quindi niente big money bello a tutti ragazzi qui è Mr. Flame e niente ho risolto questa situazione ho contattato sia il mio top avvocato sia Luke43,16 che ora è qui con me tra l'altro siamo nel dopo salotto 43,16 siamo dietro le quinte della live con gli altri a ridere e scherzare e il troll di Flammino l'ha presa a ridere dai io un po' meno perché l'ho saputo ora e il mio cugino passerà comunque dei guai seri e non lo rivedrete mai più sul mio canale almeno che questo video non arriva a 500 like ha danneggiato la macchina di Zio Sansone ha rischiato di farmi litigare con Luke ha coinvolto il top avvocato di Youtube ovvero Billy Foster che solo dopo questa chiamata mi costerà un occhio della testa e che dire ragazzi tutto bene, quel che finisce è bene e ciao grazie a tutti grazie a tutti